presentatevi sono pia veloce io sono l'armato perché siete qui per presentare un evento dove nessuno può fuggire chiedetolo al signor regista cosa c'è domenica 28 ottobre terza edizione di fuga forest ararmi 9.30 piastra d'armi terra del sole ma tu cosa rappresenti io sono il passato ma io sono il presente sono come tutti voi lavoro tutto il giorno una famiglia e mi sbaglio il mio sbaglio è la forza armato ma perché corri dietro a pie veloce il passato mi mi deluse il presente mi tormenta il futuro mi spaventa e veloce ma da cosa fuggi da cosa fuggi da un coso vestito da carnevale che non si capisce niente tre anni che mi corre dietro non mi prenderà mai non ce la farà mai tanto lui mi corre dietro andiamo avanti così vediamo un po' io ricorro il presente per non fargli fare gli errori del passato e soprattutto per non perdere le buone abitudini del passato perché questa corsa è una competizione di beneficenza e questa la so perché tutto il ricavato è devoluto al reparto di pediatria dell'ospedale con gangli pierantoni di forlì e alle scuole del territorio e cosa ci comprano con quei soldi no loro non ci comprano niente siamo noi forrest che compriamo e abbraccia portiamo quello che loro ci hanno richiesto in questi due anni sono state acquistate attrezzature mediche con le termiche tv per le stanze dei bambini l'anno scorso abbiamo allestito con poltroncine puff tra l'altro con i colori sociali della società di forest la sala d'attesa del reparto mediatra e quanto costano le iscrizioni solo cinque euro e per i bambini sotto ai nove anni due euro e mezzo potete consultare tutti sulla pagina facebook dell'evento fuga forest 2018 da quant'è che voi due non vi incrociate dopo che l'angelina me l'ho fatto scappare almeno un anno come si spiene ma la vostra ostre non è mica c'è eccezionale eccezionale ma l'hai detto penso fammi un annuncio per la fuga forest di domenica dai tutti tutti a vedere corri forest domenica al per sotto il palazzo pretorio tutti quanti grandissimo esso oh Grazie a tutti.